4.000 euro di multa per irregolarità amministrative e la segnalazione alla Procura della Repubblica di mancate prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro, è quanto emerso dai controlli della Polstrada presso una rivendita di automobili nel territorio provinciale. L'ispezione rientrava nell'ambito di un servizio effettuato dalle squadre della Polizia Giudiziaria della Stradale nelle province di Torino, Cuneo, Alessandria e VCO. Grazie per la visione!